Carissimi amici, è arrivato per il YouTube e oggi torniamo su The Thaft Wars Perché oggi voglio cercare una cosa molto particolare Con l'ultimo aggiornamento è stato inserito un pollo Ma non quello che vi ho fatto vedere dentro la fattoria nei video scorsi No, 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 questo qua è proprio una gallina che corre all'interno del gioco Inoltre voglio pure provare a fare altri esperimenti con la mod Perché veramente qui c'è tanta roba da provare a fare tante belle cose Quindi proviamo a cercare insieme il pollo e a fare gli esperimenti insieme Ma come sempre c'è di qui sotto tantissimi like Se like che lasciate da fare L'animale associato a voi sarà il cane Se invece like sarà dispari L'animale associato a voi sarà il gatto Fatemi sapere qui sotto nei commenti qual è l'animale Siete associati e fatemi sapere se vi piace di più il cane, il gatto Oppure il vostro animale preferito Se vi piacciono questi tipi di video mi raccomando Iscrivetevi al canale, attivate la campanellina Perché su questo canale faccio video tutti i giorni alle 18.20 Ma adesso partiamo subito Cominciamo, facciamo modalità single player E andiamo qua stavolta ma si mettiamo sempre ricci Vi chiedo sempre scusa con la voce Orbe lo sapete non sto bene in questi giorni Ma pian piano sto cercando di guarire Infatti già i video che vi ho portato sul canale principale Sono già fatti molto molto meglio Solo che adesso ho avuto una leggera ricaduta Proprio ora che devo registrare qua Ma che roba Sempre quando devo registrare i video mi succedono le cose Sempre quando devo registrare i video Ma che roba, ma che roba Ed eccoci qua siamo dentro la casa Dentro la casa di Ricci Ok dentro la casa di Ricci Ricci avevo indovinato Sì vabbè mi devo ancora riprendere anche col cervello A quanto pare A quanto pare anche il cervello è influenzato come il resto del mio corpo No vabbè non ho l'influenza Però vabbè Insomma avete capito quello che voglio intendere Vediamo qua un po' il mod menudo Tutte quante le cose No c'è il player dove posso mettere il god mod Ma sì mettiamolo mettiamolo Anche perché vorrei fare dopo un esperimento Molto bello all'interno dell'area 51 No ragdoll Ragdoll praticamente sarebbe quell'animazione Quando ad esempio non so Con la macchina mi investono Quindi fa tutta quella scenetta in quel modo Il personaggio dove si scontorce tutto quanto con le braccia Poi anche qua Le dimensioni posso farlo diventare praticamente enorme Sono diventate enorme Ma scusate non è per dire ma il mio braccio Ma cosa Ma guardatelo là il mio braccio Ma che sta succedendo Ma perché il mio braccio sta così Ma guardatelo Ma cos'è Ma non ci posso credere Sempre più strano diventa sto gioco Ma che fine hanno fatto tutte quante le mie cose Le mie armi Il mio braccio Tutto quanto Lancio qua una granata Ma non si vede neanche il braccio Ma cosa Tipo qua lo shotgun Il fucile Ma da dove sto sparando Da dove sparo Che non ho niente Non ho niente Aspettate Provo a tornare così a dimensione normale Eh no Non c'è proprio niente Mi è sparito il braccio Mi è sparito il braccio Tra l'altro com'è che sono tornato a dimensioni normali Ma sono più grande Cioè ho messo dimensione 1 Dimensione normale E sono sempre gigante Ma com'è possibile Ma com'è possibile sta cosa Ah ok Ora sono tornato normale Ma sono bloccato Sono bloccato Aiuto E mi sa che mi tocca E usciamo dalla partita Rifacciamo Ma cosa Partiamo malissimo Partiamo malissimo Mi era pure crashato il gioco Perfetto proprio Perfetto Mi era pure crashato Partiamo bene proprio No come dicevo poco fa Ma che roba Ma che roba Allora mettiamoci qua A cercare anche sto polletto Stavolta non mi cambio di dimensione Altrimenti avete visto Che cosa mi succede Che mi crasha pure il gioco Che mi tocca rifare Tutto quanto da capo Ma che roba Allora sto polo dove potrebbe trovarsi Proviamo a vedere di là no Dove ci sono tutte le varie fattorie Le varie cose E togliti sta macchina davanti Che mi è spawnata Ma perché mi spawnano le macchine davanti così Ma perché da nulla Adesso andiamo di qua Sgommata tattica Sgommata tattica Niente Niente Poi l'unica roccia che vado a prendere Ah ok no Sono riuscito ad evitarla Stranamente l'ho evitata Ma ottimo Ma meglio così Meglio così Muoviamoci di corsa Andiamo Niente Scendo direttamente Faccio prema Faccio prema Che sti furgoni qua veramente sono Incontrollabili Vediamo qua se c'è qualcosa Proviamo a vedere In questa casetta Se troviamo qualcosa di utile Niente Qua non c'è niente Allora il pollo Noi l'abbiamo visto per la prima volta All'interno del granaio Però a quanto pare È stato proprio giunto Anche con l'ultimo aggiornamento All'interno della mappa Quindi non c'è soltanto qua Il pollo gigante che sta qui dentro Che adesso vi faccio vedere Mettiamo qua il noclip Chiudiamo qua Eccolo qua Questo è il pollo Che vi ho fatto vedere in passato Ma a quanto pare C'è pure fuori dalla mappa Ovviamente con dimensione più piccola Non è così Questo è un pollo gigante Quello che c'è in giro È piccolissimo Beh questo qua Potremmo dire che È un ennesimo Pollo mutante Che vabbè Non ha nulla a che vedere Con i volnan Però sempre un pollo così gigante Che non ha senso Vabbè Togliamo quello noclip Torniamo qua A muoverci Però direi di mettere di nuovo Visto che prima me l'ha tolto Noclip God mod Ragdoll Ok Muoviamoci qua Così posso pure Godermi Tutto quanto in giro Qua senza prendermi danno C'è amichetto Kirill Kirill caro C'è da notare una cosa Lui riesce a stare sulle bottiglie Ma guardate io cosa faccio Guardate qua E salta Ma prima c'è risaltato sopra Ecco qua Sono salito sopra Kirill Sono sopra la testa di Kirill Bellissimo Direi anche di farci un bel selfie Sempre se riesco Qua Allora Ad aprire qua la fotocamera Guardate qua Ma che roba è Ma non ha senso sta cosa Sono sopra la testa di Kirill Sono sopra la sua testa È tutto normale proprio Poi da notare che sono Ricci E ci sono le missioni per sbloccare Ricci Ma cos'è Ma che roba è sta roba Ma che cosa mi rappresenta Ma perché Dopo voglio andare da Ricci Per vedere il filmato Di quando proprio Ricci Va a parlare con Ricci stesso Ma cosa Ma veramente Ma non ci posso credere qua Proprio Contro ogni Logica Sto gioco Ma cosa Vediamo qui intorno Se c'è qualche bel Bel polletto Polletto Dove ti trovi Dove sei Dove ti hanno piazzato Dove l'hanno messo sto pollo Ma che Ma datemi il pollo Ma ditemi un po' Se devo farmi tutto sto giro Per un pollo Ma me lo vado a comprare Al supermercato Me lo vado a prendere lì Lo trovo subito Beh più o meno Perché ultimamente Anche i polli Nei supermercati Stanno scarseggiando un po' Stanno scarseggiando un pollo Vabbè dai Lasciamo perdere Battuta a parte Proseguiamo qua Vediamo qui Beh effettivamente In una fattoria Dovrebbe trovarsi un pollo No Perché il pollo È un animale da fattoria Quindi dovrebbe trovarsi di qua Proviamo a vedere Buonasera a tutti Buonasera Uh Ma spaventapasseri C'era prima Non me lo ricordavo Non mi ricordavo Che ci sono spaventapasseri Ma da quando l'hanno messo Da quando l'hanno piazzato Polletto Sei da queste parti Proviamo a vedere Proviamo a vedere Qui non vedo niente No aspettate Aspettate Guardate Abbiamo trovato il pollo L'abbiamo trovato Guardatelo qua Posso colpirlo Posso colpirlo Polletto caro Posso prenderti Posso colpirti Posso colpire il pollo No Ma scusa Ma sto pollo Di cosa è fatto Di cosa è fatto Provo a lanciargli Tanti proiettili Uno dopo l'altro Ma di che cosa è fatto Sto pollo Ma che è E beh effettivamente Qua si trovava la gang E la gang era fatta da gente Veramente indistruttibile Quindi a quanto pare Abbiamo scoperto Perché la gang era indistruttibile Perché si mangiava La carne di quel pollo A quanto pare Quel pollo Dà un potere Che li rende Invincibili No Anch'io vorrei farmi Una dieta di sto pollo Ma che roba Ma dove sta andando Ma dove va il pollo Ma dove va Se ne vai in giro Per la città Vai a fare un po' Di acquisti In mezzo alla città Ma dove finisce Qua Ma dove sta andando Bisogno Velocemente Di una macchina qua Voglio provare ad investirlo Solo che qua Mo la macchina Come faccio ad averla Se qua neanche mi si apre Il menu del telefono Per richiamare i cheat Premo qua il telefono Cheat.exe Scriviamo qua Ehi taxi Vediamo se era così Ok Cheat attivato Ma mi è sparito il pollo E dove è la macchina Dov'è la macchina Che ho fatto Ah e ora sta comparendo Dove va il pollo Ma scusa pollo Ma dove vai Ma dove sta andando Aspettate 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 E che roba però Sta macchina Che ci ha messo una vita A spawnare Il pollo nel frattempo Se ne è già andato via Andiamo di qua Velocemente Andiamo subito A raggiungere il pollo Vediamo se possiamo colpirlo Con la macchina Eccolo qua Cosa Ma guardate Cosa io vado con la macchina Adesso il pollo La macchina si ferma Ma è un pollo indistruttibile Questo Guardatelo qua Non si fa niente Non si fa niente Ma di che cos'è fatto Sto pollo Ma cosa Avete visto Ma dove Dove va Dove va Ma cos'è Ma che pollo è questo Ma chi l'ha creato Ma peggio degli OGM Sta roba Ma Tra l'altro che fine ha fatto Mi è sparito il pollo Ho perso il pollo Ma cosa Ma stavo qui in giro Ma sta sparendo Ma era qui nelle vicinanze Ma pollo Dove sei finito Eccolo qua Ma dove va Ma cosa E' veramente assurdo Sta cosa Assurda Il pollo Abbiamo trovato Abbiamo trovato il pollo Su New Theft Wars Voglio dire anche Di farci un bel selfie Camera Mettiamo qua La videocamera E ci facciamo un selfie Con il pollo Ma guardatelo qua Ma cos'è Ma non ci posso credere Non ci posso credere Vabbè Chiudiamo qua la videocamera Vediamo No 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 Resume Resume Chiudiamo qua il mod Sì vabbè In modo niente Allora Prendi qua Vediamo se riusciamo a colpire il pollo Con le altre armi Guardatelo qua No no Seriamente Devo provare con la granata Lancia razzi Lancia razzi Aspettate Rocket launcher Perfetto Niente Non si fa niente Non si fa niente Neanche con il rocket launcher Con il lancia razzi Ma cosa Il pollo indistruttibile Abbiamo trovato Cioè Veramente Ma cos'è Ma guardatelo Non si fa niente Non si fa niente Ma cosa Vabbè Cos'è Provo a colpirlo qua Con la tromba da stadio Neanche con questo Si fa niente E con questo invece Qua mitraglietrice Neanche un pollo arrosto Cioè veramente Qua non ho capito Perché la gente diventa indistruttibile Forse a quanto pare Chad si è fatto Non so che cosa Si è mangiato Per una vita intera Soltanto carne di questo pollo E per questo È diventato indistruttibile Ecco perché Chad Non si riesce a prendere Non si riesce a far colpire Lo abbiamo scoperto Abbiamo scoperto Il motivo Che fine ha fatto sto pollo Che fine ha fatto Polletto caro Dove vai Dove vai Allora Proviamo a vedere qua Mettiamo la velocità più alta Così possiamo raggiungere subito Eccolo qua Così il pollo Non ci scappa più Non ci scappa più Proviamo a colpirlo qua Proprio non si può neanche raccoglierlo Ma anche con le macchine Avete visto Ho provato a colpirlo con la macchina Ma non succede niente Non succede niente Neanche in macchina si fa prendere Ma cosa È bellissima sta cosa Bellissimo Ho trovato praticamente Il mio nuovo divertimento Su duty of the world Non sapete cosa fare Andate direttamente dal pollo Cercate di fargli qualcosa Di colpirlo Di distruggerlo E vedete che non si fa niente E poi veramente a me fa troppo ridere sto pollo Mi fa veramente un sacco ridere Ma cosa Ma dove sta andando Ma è bello che corre così Inesorabilmente Senza una meta Senza una fissa dimora Senza fare niente Perché tanto non fa niente Così che cammina Cammina e basta sto pollo Non è che ha un obiettivo nella sua vita Ma uno scopo Ma dove sta andando Ah ok Per un attimo penso che passasse pure in mezzo alle rocce No perché ormai su sto gioco Qualunque cosa è possibile ormai Qualunque cosa è possibile Ma bellissimo Polletto caro Non posso portarlo a casa mia Lo porto a casa mia Gli do pure un nome Lo chiamo Mr. Pollo Mr. Pollo Vieni con me Vieni con me Altro che Gummy, Rustle e Mr. C Qui abbiamo Mr. Anzi Dude Chick Questo potrebbe essere Perché fa parte di New Death Wars Della Dude City E che roba bellissima Ma che so Sti tuoni Non c'è neanche brutto tempo qua A parte qualche nuvoletta così Ma sti tuoni Da dove vengono Vabbè Io direi di fare una cosa Ma Tanto qua non è che c'è più altro da fare Direi per il momento Che possiamo finire quel video Fatemi sapere cosa ne pensate Fatemi sapere se voi Già avevate trovato il pollo Spero che questo video sia piaciuto Se vi è piaciuto Mi raccomando Spallicciate Che si vedete Iscrivete al canale Con la campanella attiva Noi ci vediamo al prossimo video E come sempre Vi auguro per la giornata Per la giornata Per la giornata Ciao a tutti E buon pari nottate